Il carcinoma vasocellulare è senz'altro tra i tumori della pelle il più presente, il più frequente riscontro tra i cosiddetti non melanoma skin cancer, cioè i tumori della pelle non melanoma, ma anche come numerosità di diagnosi è il tumore in assoluto più frequente nella popolazione bianca. Pensate che il numero di diagnosi di carcinoma vasocellulare fatte negli Stati Uniti supera la somma dei tumori della mammella, della prostata e del polmone che vengono diagnosticati. Il carcinoma vasocellulare è una piccola lesione superficiale che si presenta come una ferita, come una piccola ulcera che nel giro di 3-6 mesi non solo non tende a guarire, ma va sempre più aumentando di dimensioni. È quello il momento in cui il paziente dovrebbe rivolgersi al medico di base e sicuramente il dermatologo in queste fasi precoce è il primo a dover vedere il paziente, il dermatologo è in grado chiaramente di fare diagnosi sia clinicamente sia con l'ausilio della dermoscopia che dà comunque dei pattern particolari, indica dei pattern particolari per la diagnosi del carcinoma vasocellulare e può dare seguito a una serie di trattamenti il cui gold standard può essere l'asportazione chirurgica, l'asportazione chirurgica perché ci garantisce l'asportazione completa della lesione, perché ci permette la conferma tramite l'esame istologico della diagnosi della lesione. In quei casi però in cui per negligenza del paziente, per lo più comunque per disattenzione da parte di chi segue il paziente, la lesione o di chi non segue il paziente, la lesione può raggiungere dimensioni molto importanti o invadere tessuti circostanti o tessuti in cui difficilmente si può eseguire un'asportazione chirurgica come per motivazioni di tipo funzionale, di tipo estetico, pensate a una lesione grande estesa sul viso nella regione dell'occhio. Che cos'è alla base della formazione del carcinoma vasocellulare? Sicuramente l'abbiamo detto, in molti casi un'alterazione genetica, la presenza di una situazione di immunosoppressione legata a farmaci o patologie, ma banalmente anche nella stragrande maggioranza della popolazione una scorretta esposizione al sole nel corso degli anni. Il carcinoma vasocellulare è più frequente nei soggetti di carnagione chiara che difficilmente si abbronzano al sole, nelle zone che più facilmente si espongono al sole, quindi il volto, il cuoio capelluto nei soggetti che non hanno capelli, il décolleté e in soggetti che professionalmente sono esposti al sole, i contadini, i marinari, tutti quelli che fanno un'attività o lavorativa oppure di tipo ludico all'aria aperta. I più moderni sviluppi terapeutici mettono a disposizione del medico, che può essere in questo caso il dermatologo, può essere l'oncologo, può essere un team che prevede dermatologo, oncologo e chirurgoplastico. Sicuramente i centri ospedalieri che posseggono tutte queste figure, dal dermatologo al chirurgoplastico all'oncologo alla radioterapia, più facilmente avranno la possibilità di incontrare pazienti che invece possono avvalersi di un nuovo farmaco che si chiama Vismo de Gib, è un farmaco che viene dato per bocca, abbiamo detto una cosiddetta target therapy, cioè una terapia che agisce sulle alterazioni genetiche che sono alla base dello sviluppo della neoplasia e che deve essere assunta a vita dal paziente perché si possa avere un risultato con scarsi o modesti effetti collaterali e con un ottimo risultato terapeutico.